Intanto che aspettiamo Giovanni, perché probabilmente sta chiudendo una bomba, ma questo è il mio parere ovviamente. Queste carte sono Laming Cards, sono carte che hanno avuto molta fortuna in Italia, non solo per quanto riguarda il brand di Dragon Ball, ma sono state fatte anche Laming Cards, mi ricordo, sui Medaroth, sono state fatte Laming Cards sui Pokémon. Insomma, i brand più grandi giapponesi spesso venivano raffigurati in queste, possiamo dire, lastre di plastica stampate. La Diramix ha preso i diritti dell'Amic Cards e ha iniziato a sfornare carte su carte senza un freno e a gennaio di quest'anno ha lanciato sul mercato Dragon Ball Ultimate, che secondo me è un'idea della madonna, perché ha fuso le quattro saghe canoniche, non canoniche, quello che cazzo mi pare, poi ne parliamo con chi di queste cose, insomma, ci fa i bonifici, ovvero Ocelot chiaramente, e anche Caverna, perché no? A posto. Sì, 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 quindi c'è Dragon Ball serie classica, Dragon Ball Z, Dragon Ball GT, che è una sorta ormai di what if, credo che la tua EI lo consideri una sorta di mondo parallelo. Ufficialmente è una side story. Una side story, sì, che paraculata immensa, e infine Dragon Ball Super, che accende sempre gli animi dei fan di Dragon Ball, soprattutto i miei. C'è chi lo difenderà, e sono convinto, in questa chiamata, c'è chi invece lo cercherà di distruggere. Magari possiamo trovare... Oggettivamente Super è meglio di GT. E magari poi ci troveremo anche a confrontarci, a trovare un punto di incontro, grazie appunto alle carte che uniscono tutti, vero ragazzi? Vorrei ricordare che quando le Laming Cards le hanno fatte per la prima volta, c'era a direzione di tutto Luciano Costarelli, e ricordo questo aneddoto assurdo che lui per avere... Quello dei disegni, no? Sì, quello dei disegni, praticamente lui aveva realizzato in una notte intera tutte le Laming Cards di cui la Toei aveva bisogno, i bozzetti, perché la Toei aveva detto, sì sì, noi li facciamo, però mi devi dare le bozze, e questo disegnatore in una notte li fece tutti, 100 carte di Dragon Ball, e poi le faxò la mattina dopo. Assurdo, veramente, questa è una storia tutta italiana fighissima. Ocelotto, ma hai una maglia con i fenicotteri? Sì, una bellissima camicia con i fenicotteri. Perfetto. Una cosa, prima di partire, la D-Ramix ha fatto una roba, secondo me, molto figa, cioè ha fatto dei pacchetti in edizione normale, che costano 2 euro, ha pacchetto e ci sono 7 carte dentro, e poi, ormai lo fanno un po' tutti, ha fatto un'edizione speciale, cioè dei pacchetti speciali, dove praticamente ci sono 10 Laming Cards e costano, mi pare, 4 euro, 5 euro, e si possono trovare solamente qua le carte di Sherron. Ci sono varie carte limitate che si trovano solo qui. Limitate poi lo trovate, già da gennaio che sono uscite, lo trovate in tutte le edicole, quindi limitate, secondo me, è una funzione pura, se no, trovate appaccate. In modo di dire. Allora, io partirei con le carte normali, ok? Per vedere cosa succede. Vediamo un po' di cosa esce. Io voglio chiedervi questa cosa, vi faccio un po' da intervistatore, qual è stato il vostro primo ricordo legato a Dragon Ball? Che è una domanda banalissima, ma secondo me chiave. Il mio primissimo che mi ricordo è legato all'acquisto, ed era l'acquisto di un anime comics di Dragon Ball Z. Era il secondo film. Che sfigato! No, come è sfigato, è la cosa più bella del mondo. Solo perché voi non riuscite a capire la bellezza dei colori in un fumetto. La merda! Dei frame, tui pallini. Ma state rosicando un po' troppo, forse perché costava 8000 lire e non potevate comprarlo, non lo so. Non ti preoccupare, l'abbiamo comprato. Sì, tutti hanno fatto, tutti hanno commesso i loro errori. No, il comic è sempre stato tremendo, è tipo un fotoromanzo brutto. Comunque, allora, a parte i fotoromanzi, le Lamy Cart sono veramente fighe, perché non sono solo trasparenti, hanno messo anche questo a... C'è la trama dentro. Sì, sì. Una texture con le sfere del drago, e ovviamente c'è un gioco che nessuno mai giocherà, e poi... Sì, sì. E poi l'odore è sempre lo stesso, cazzo, con la plastica industriale tremenda. Sono sempre quelle. È di Pasqua, odora di Pasqua. Se compri la colomba, è il stesso odore. Non so cosa ne pensate. Voi, allora, è stato che Toriyama spacca con i design degli automobili, dei gadget, lui è delle case, è sempre stato uno fissato con quel tipo di design. Io mi aspettavo da Mecha Freezer una cosa che fondesse i due elementi, ma in realtà a me sembra proprio un arlecchino di metallo, non mi è mai garbato più di tanto. Cosa ne pensate di Mecha Freezer? A me è sempre stato strano che gli androidi della Terra erano perfetti, invece Freezer sembra un ammasso di spazzatura raccattata in giro per la galassia. È vero, sì. Super vero. Sì, sembra rappezzato, no, Mecha Freezer, più che proprio ricostruito da zero. L'hanno rappezzato un pochino, sì, è un po' strano. Però c'è il Toriyama, comunque, secondo me. Sì, sì, sì. Soprattutto c'è qua, guarda, in queste placche. Dove vedi le parti, sì, di placche, le parti meccaniche. Sì, 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 infatti. La roba è la te meccanica. Anche la core. Cioè, vabbè, è un personaggio che viene messo in ombra addirittura da suo padre in un attimo, quindi non serve a niente. Anzi, che sia esteticamente spiacevole ci sta alla fine. Però è strano perché Freezer è sempre stato un nobile, no? Appunto, come diceva Oseroth, è sempre stato un riccone. È strano che sia stato fatto con degli scarti, quasi, no? Però è un po' comica la cosa. Tanto vabbè era... Sì, ma volutamente comica, proprio per evidenziare quanto poco importasse in quel momento Freezer. E per introdurre Trunks, più che altro. Sì, appare per morire, praticamente. Mamma mia, che figura di merda lui è il Recode. In GT, quando non sapevano cosa fa, Super Baby Vegeta, Super UB. Queste sono trasparenti. Statistiche altissime, tra l'altro, questi, eh? Sì, è super forte. Questa era UB fuso a Majin Bucciccione, eh, se ti ricordi. Meta, questo è meta. Maggiungo. Infatti, fra l'altro, praticamente non si dovrebbe chiamare nemmeno UB, perché chiaramente in Giappone non ci sono le lettere singole, ci sono sempre i vocali, quindi il nome vero è UB. Vabbè, ora... UB. Vabbè, sì, sì, sì. UB. Queste cose le lascio a voi due, Teo, Sero, Teo, Insomma, in coppia. Sì, sì, sono quei dati importantissimi. Sono quegli elementi importantissimi della storia. Sì, fondamentali per la fruizione di un'opera. Sì, sì, sì. Necessario. Davio, solo perché tu non capisci niente di Dragon Ball, ma... Devo andare a prendere il cuscino Ocelotora o tu? Dimmelo così. Attenzione. Comunque, torniamo alla domanda di prima. Ora voglio sapere, dato che fai il guappetto, qual è stata la prima esperienza di Ocelot con Dragon Ball. Beh, ovviamente. Comunque, queste sono tutte bellissime comunque. Molto belle. Con l'anime che lo vedevi tornato da scuola e ti emozionavi per gente che si prendeva schiaffi fortissimo. Ah, ti capivano le mazzate quindi da ragazzino era quello... Eh beh, sì, effettivamente era molto figo. A me piacevano le trasformazioni invece. Era una cosa che mi colpiva tantissimo di Dragon Ball. Cioè il fatto che c'erano vari step nelle mutazioni e mi piaceva sempre vedere... Infatti il mio primo contatto è stato con Dragon Ball. È stato con l'anime. La serie però originale e mi piaceva molto vedere i colpi, come si sviluppavano. Mi ricordo che non vedevo l'ora di vedere quando piccolo, grande o meglio piccolo, si sarebbe ringiovanito. E poi chiaramente con lo Z mi piaceva tantissimo appunto vedere il cambio di design. Soprattutto in Freeza era figo e che era più alto, poi la versione xenomorfo. Poi il design dell'ultima che secondo me è un capolavoro da esporre al MOBA. Non la Golden perché vabbè lasciamo perdere però. Sì, sì. Final Form. Bella, bellissima davvero. Meglio del 100% perché è semplicemente... Beh sì, il 100% è lui boff. Sì, sì. Ho detto al MOBA. Io lo sai che ho sempre un po'... Al MOBA. Non al MOBA, scusate, piccolo app. No, raga, ma questa è una bomba. PG Banner. Oh, attenzione. Hai trovato il lago? Forza. Forza. Questo è un pacchetto premium. Però non si sapevo che fossero... Olo. Addirittura le Lamy Cars Olo. Ma guarda che... Sì, questa è una olografia, è tipo una ultimate. Ma poi è dopissima, cioè è gigantesca, è pesantissima. Sì, sì, è una proxy, è gigante. Una carta di credito. No, questo è proprio per sembrare il cartellino della vita. Eh sì, si manda a gradare, così la vendiamo a 200, 300. Capito? No, non penso che il valore sia molto alto, purtroppo. Va bene. Ok. Ma cos'altro c'è in questo pacchetto? Cioè, tu compri il pacchetto specialissimo gold. Cioè, abbiamo un Goku Super Saiyan 3. C'è altro fuoco qui, eh. Fa sempre il suo effetto. Ebbè, spara pure la Kamehameha. Goku scimmione, proprio. Beh, vabbè. Attenzione. Goku scimmione, però è come lo chiama il bambino che gioca a uno. Come si chiama? Goku scimmione. Quello scimmione di Goku. Goku, questa è la versione grande dei GT quando si scontra all'inizio con Ub prima dell'amore. Bello. Ma solo il tuo primo ricordo con One Piece. Con One Piece? Sì. Sei One Piece. Vai proprio. Ormai proprio tabula rasa. Andato. Con Dragon Ball. Anche io con l'anime, però, mi ricordo che lo vedevo la sera, perché lo guardavo sulla rete private, ed era tipo il 96. C'era Massimo Corizza, sì. Corizza che doppiava Goku. Su Junior TV, vero? Sì, sì. GTV. Goku Super Saiyan. Sì, Gohan Super Saiyan. Tra l'altro perché hanno messo... Ah, il design di Super questo. Ok, sì, ci sta effettivamente così. Con la tuta, l'abbiamo visto, arancione, l'abbiamo vista solo su Super. Sì, esatto. Lui grande, c'ha il vestito di Great Saiyan. E poi, dopo, diventa Gohan Supremo, quindi se ne sbatte alla grande, sì. È stato mostrato anche un'altra volta, si è visto anche un'altra volta in un poster sbagliato di Dragon Ball Z da Kami Tokami. Fece un poster sbagliato con Gohan Super Saiyan, ma chiaramente lui non diventa mai Super Saiyan nel film. Questo, vabbè, è VGQ. Vegito. Vegito. Però qui lo chiamano Vegito. Eh, vabbè. Esattamente. Sì, un po' di Super Saiyan Blue, vabbè. Poi parleremo di queste robe. Molto forte, questo personaggio. Uh, Gohan Super Saiyan. Gohan Super Saiyan. Gemmina, fortissimo. Bello, ma qui abbiamo, ci sono le trasparenti, quelle con la texture della sfera, le sferi del Drago, queste qui tipo Glitter e poi le Sherron, praticamente. Oh, è il più bel Goku di sempre, ti è. Eccolo qua. Cattivo, guardalo. Invece, Giova, manchi te, come hai conosciuto Dragon Ball? Ah, sì, io, deco, il cartone animato andavo piccino, ovviamente, come tutti, però fortunatamente c'era un amico mio, la cui mamma lavorava in libreria e c'aveva tutto il manga di Dragon Ball e andai avanti da lì perché mi ricordo che mi persi praticamente tutta la saga del grande mago piccolo nella prima serie di Dragon Ball. c'era una vidi mai in tv e dal manga l'ho letta e non l'ho smesso più, ma perché era troppo bella quella parte. Madonna, mi hai fatto in mente questa cosa che sulla rete private, siccome ne avevano comprato, penso... Ah, due Goten, ok, bene. Ah, di fila così? Vabbè, e sovrapponi, sovrapponi, sovrapponi. E va bello. Sì, sì, personaggi fondamentali in tutta la lore Dragon Ball. Sì, sì. Dicevo, mi ricordo che avevano comprato un tot di episodi e davano sempre il loop le stesse. Bello. Tu te lo ricordi domenico stato fatto? Infatti io mi sa che in tv non l'ho mai vista la roba del grande mago piccolo. Allora, su Junior TV finiva sempre al torneo con Tenshinan. Esatto, esatto, finiva lì. Vedi? Sì. Bellissimo, queste sono le mie preferite. Anche se in seia finiva sempre alla casa del leone, sì, sì. Trunks del futuro, attenzione ragazzi. Trunks del futuro. Eh, da non confondere con un'ormale. Trunks di rovine del futuro dico gnome. Eh sì. Mirai Trunks. Trunks Masullo. E ora vi faccio la domanda chiave. Cioè, perché avete continuato a seguire Dragon Ball, amare Dragon Ball e soprattutto perché ogni tanto ci viene sempre voglia di leggerlo? Cioè, secondo voi qual è la ricetta che ci fa amare così tanto Dragon Ball? O almeno, qual è stata la vostra ricetta che vi ha portato ad amarlo così tanto? È una domanda. Domandone, domandone. Ma sai, io penso che ci siano delle componenti che riguardano tanti temi in Dragon Ball. Ci sono delle cose che noi non capiamo, che vengono sicuramente dal bultismo e dal mondo giapponese. Però Dragon Ball è un racconto così universale, nella sua semplicità, senza andare a scavare troppo a fondo nei temi, che racconta delle cose così univoche per tutti quanti. Valori come l'amicizia, l'impegno e voler cercare di aiutare tutti quando puoi farlo. Se sei in grado di aiutare qualcuno lo devi fare. È uno dei primi insegnamenti che dà Muten a Goku e Krilin. Quindi, quella semplicità, quella linea chiara poi del disegno, tutto molto bello, un po' gommoso. Quasi un po' bandessinè. Lo rende un fumetto così facile da leggere, da sfogliare. Proprio questa sua semplicità. Sembra un profumo di un calippo giù alla spiaggia, al mare. Te lo ricordi sempre, Dragon Ball. È sempre lì. È sempre stato lì con noi. È impossibile abbandonarlo. Quindi dici che... La pizza, la pizza. Dici che è legato... Che cazzo ti... La pizza. Dici che è legato principalmente a un fatto di ricordi. Penso sia un mix, nel senso che tutto quello che Dragon Ball ha significato per noi e con il quale siamo cresciuti, a volte hanno modificato anche pure il nostro modo di parlare. Quante volte si è detto per strada, oh ti lancio un'onda energetica, oppure fisico, non mi tradire. E tante altre cose, no? Adesso diventa un Super Saiyan, ti spacco. No, a me mi ricordo che al massimo facevano i capelli tutti alzati. Uè, Dragon Ball. Sì, sì. C'era anche, mi ricordo, lo citarono anche in un cinepanettone. C'è De Sica al ristorante giapponese o cinese che dice, uè Dragon Ball, ma che c'è? Il sushi, che mi ha dato il sushi? C'è un po' assurdo, veramente. Beh, c'erano i fichi d'India che facevano GoPro e PC. E' vera parodia, bravissimo. Tra l'altro questo è il miglior... Ah, entrambi, tutti e due con i capelli appunto. Sì, sì, facciano la fuzione, facciano la fuzione. Il miglior vegito è questo qua per me, secondo me. L'ho sempre detto, quello non trasformato è bellissimo. Perché conserva i tratti di tutti e due, a mio parere. Che nel manga si vede per una pagina. Sì, una pagina. Non mi raffa, tre vignette. Secondo me, oltretutto quello che ha detto Domenico, che è sacrosanto, c'è da dire anche che io l'ho sfogliato un'altra volta in fumetteria con la Deluxe nuova, la Ultimate Deluxe. E, allora, innanzitutto è disegnato benissimo. E quando inizi a leggere una pagina, due pagine, dieci pagine, ti viene voglia di leggere di nuovo tutto, perché è invecchiato, secondo me, nemmeno di un giorno. È comico, è divertente, le mazzate sono fatte benissimo, i personaggi sono fighissimi, le trasformazioni funzionano un botto, i colpi, ma anche i colpi quelli più stupidi, che non si sono più rivisti, tipo la tecnica delle palme fantasmagoriche o le quattro braccia di... Ah sì, le quattro braccia di... Te li ricordi? Sì, tutte stronzate che poi non si sono mai più viste. Ma infatti era un po' più basato sulle tecniche, quando c'era la torneia e queste cose qua, tiravano fuori delle cose un pochino più strane. L'immagine residua, te la ricordi? L'immagine residua che era tutta... La Zanzo Ken. Bellissima. Oppure, beh, ce n'erano tanti, ma anche personaggi secondari, tipo Yamcha, che spesso erano parodiati, perculati, a volte tiravano fuori dal cilindro delle tecniche che mettevano in difficoltà anche le persone più potenti del mondo dell'epoca, ovviamente, di Dragon Ball. Certo. E quella roba lì non invecchia mai. Anche la saga di Majin Book, che è l'ultima, che è piena di stronzate, sbagli, errori, follie, è comunque divertentissima da seguire. Ancora ridi come un pazzo quando fai il colpo volleyball, quando distruggono lo spazio-tempo con un urlo. Insomma, sono tutte idee che con la pigrizza di Toriyama siamo riusciti comunque... Alzi, il genio pigrizza di Toriyama siamo riusciti ad apprezzare. Il fatto che non invecchi, secondo me, che sia una storia universale per tutti e che abbia un potenziale per tutti. Ecco, secondo me... Se vuoi le mazzate, c'è quello. Se vuoi l'erotismo, lo trovi. Se vuoi la comicità, c'è il primo torneo che è una cazzata con pure battaglie, con l'odore di bacteria, con il pulso di bacteria. Creen senza naso, che poi si rende conto dopo. Creen che non ha il naso e lo capisce. Non posso sentire le punte. Subisce gli effetti. Ma poi... Ah, ma no, ma io non ho il naso, quindi non posso sentire. Beh, sì, ma banalmente non si è mai voluto prendere sul serio, semplicemente. Eh, sì, è vero. Questa è la forza, secondo me, che ha avuto anche. Forse l'unico momento in cui si è preso sul serio è Freezer Cell. Lì Cell, soprattutto, è molto cupo, molto amaro come... Eh, però anche con Cell. Poi ha subito stemperato con personaggi come Mr. Satan. Vero, vero, vero. Che ha un personaggio dottori yamesco in tutto, del vecchio Toriyama in tutto, sì. Rimane sempre fresco, anche perché non ha neanche un'inquadrazione storica. Il mondo di Dragon Ball è un mondo fantasy con cose fantascientifiche. Dici, è stato speso nel tempo. È vero. Esattamente. È vero. A parte magari qualcosina tipo inviarsi le foto col fax in un capitolo. Vero. Sì, ma poi è parte tutto anche tutta l'architettura. In alcune parti d'Italia ancora si fa questa cosa. È vero. E anche in alcune parti del Giappone. Quando l'ho letto, io neanche so come funziona un fax, però... Questo è Gohan, tra l'altro Super Saiyan con Baby infilato nel culo. Sì, quello è assorbito da Baby, no? Ah, questo è il famoso Gohan Spider-Man. Esatto, che non è l'uomo ragno. Quello di Spider-Man, pazzesco, è vero, incredibile. Ma quella roba lì quanto, madonna, gigantissimo. Fuori di testa. E io sono l'uomo ragno. Ma poi quante carte ci saranno? Io sono l'uomo ragno. L'architettura era troppo bella. Megarbava tantissimo. Le capsule o poi, chissà cosa ci va fuori. Sì, ma anche quello secondo me rende l'opera sospesa nel tempo. Appunto che anche a livello proprio visivo non ci sono dei riferimenti diretti a quello che sarebbe il nostro mondo reale così forti, ecco, da dire, ecco, questo è inquadrato in questa epoca qua. No, è tutta una tecnologia, tutta un'architettura senza senso, roba fuori di testa, come sempre in tutto Toriyama, anche l'agio pinguino, per dire roba fuori di testa, che non ha alcun senso. Sì, appunto, si ha un mix tra pigrizia, eccetera, è genio, sicuramente è vero, però ci sono certe cose che Toriyama le fa come nessun altro, appunto, queste cose tecnologiche, questo non proprio cyberpunk, ma anche sì in certe cose, questi design strani, i macchinari, i veicoli, cioè roba troppo... Ma pure come mescola gli esseri viventi, cioè è troppo divertente. Ma poi soprattutto all'inizio, i suoi animali, lei diceva, i suoi animali all'inizio parlano tipo tutti, a volte Goku parla con un delfino, con un uccello, quelli rispondono. Minchia, ma questo è il kid book che si vede nell'illustrazione a colori fantastica. Questo è disegnato da Toriyama, sì, sì, sì. Sì, è ridisegnato, però sì, insomma, è quello. Questa è quell'illustrazione dove c'è Goku, Super Saiyan 3 e kiddo. Magin Bu così, ciccione a così che fa, beh, bellissima quella roba lì, fantastico. Ma non ho capito i rates delle carte che escono, perché ci sono certi pacchetti e sono tutte Zaffiro, Smeraldo, Ritino e altre. Rates dello 0.2, alcune 0.4. Un mischione, buttate nel pacchetto e capace ti escono 10 carte ultra rare. Tutte fallate. In realtà ti dico... Sono i rates di Dokkan. Nei pacchetti premium, nei pacchetti premium ci sono tre speciali, forse per quello ho capito che ogni tanto ne spuntano di più. Nei pacchetti normali no, ce ne dovrebbe essere una sola che credo sia questa. Questa qui con le sfere, credo. Bello sto vegetarie. Comunque hanno ripreso vecchie Laming Cards dai vecchi set, sempre della D&D. Questo è proprio Costarelli, è proprio come disegnava lui e Toei l'ha rifatto, con questi pugni in avanti, sempre. Iniziamo ad andare un po' nella zona calda, nella zona calda, delle cazzate di Toriyama. Cell Junior. Allora, dato che voi studiate tutte le traduzioni nuove, come Indiana Jones per risolvere gli indovinelli e tutto, e trovare i tesori, mi spiegate cosa dice veramente Cell, perché se davvero i Cell Junior hanno la forza di Cell, tale e quale, mi sembra un po' sgravato come power up, come mossa, poi ditemi voi, eh ragazzi, magari mi sbaglio, io sono qua a ascoltarvi. Da che ricordo io, comunque Toriyama è sempre abbastanza vago su queste cose, nel senso, per evitare queste cose, dice sempre approssimativamente hanno la mia forza, sono pur sempre i miei figli. Sì, 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 si parla il culo così, cioè io non credo che effettivamente potesse duplicare quante copie ne fece, sette? No, quanti ne erano? Tipo i Cybermen allucinanti, però potentissimi, cioè boh, non lo so. Però in effetti questa cosa pone il fatto molto importante che potremmo considerare Cell un ragazzo padre. Non mi puoi spiegare questo concetto. E beh, perché sono i suoi figli. No, chiaramente, però vabbè, insomma. Il problema non è nemmeno che abbiano la sua stessa forza, che hanno pure tutti i suoi stessi poteri, cioè che potrebbero replicare qualsiasi tecnica che lui usa, potrebbero rigenerarsi, eccetera, eccetera. Però vabbè, il problema non si pone tanto dopo due secondi. Si schioppano, quindi t'ha posto. Li affetta a metà tutti, quindi vabbè, alla fine non è successo nulla di grave. In realtà, come ci insegna Super, in realtà sono ancora vivi. Come sono ancora vivi? Eh sì, Super sono vivi, perché appunto, come ti dicevo, hanno gli stessi poteri, si rigenerano. Ah, già, è vero, sì. Non sono mai morti quei sei junior. E quindi per ben due pagine possiamo vederli. Che bello, eh? E invece ecco, ora io ti ho fatto pure un video su questo, però voglio sentire il parere di tutti. Sto cazzo di nucleo, allora te hai scritto ho risolto il nucleo. Ho risolto il nucleo. Non mi sembra che tu abbia risolto niente, però insomma fammi capire perché è risolto, perché lui ce l'ha nella testa, scoppia praticamente nello scontro contro Goculo, cioè viene potato completamente a metà, a meno che non l'abbia trasferito sul piede come ipotizzano molti, non è un po' strano, no? Però ditemi anche qui la vostra, sono molto curioso. Vabbè, stiamo comunque parlando di uno che ha vomitato C18. Intera, certo, intera. Io non mi sono mai fatto questo problema, semplicemente pensavo vabbè, lo sposta il nucleo dove cazzo gli pare. Vabbè, ma in realtà lui l'ha rigenerata per sputarla, capito? Ah, quindi l'ha ricomposta, l'ha ricomposto. Sì, perché lui è un gentiluomo, c'è uno stomaco quanto un'universale. È bella questa. È un tubo. Supercero. Vabbè, quindi sto nucleo io non ho mai capito, cioè era una cazzatona, così per ride, abbiamo scherzato. Ma sì, era una cosa al volo che non se l'ha capita bene, ma poi tutto sommato non ha cambiato la vita a nessuno, quindi finché è così, per me va bene. insomma è morto Goku, morto il protagonista, insomma. Ma no, ma poi si è risolto sempre. No, ma poi non solo muore Goku. Ma Cell resuscita più potente di prima è anche perfetto. Sì, senza 18. Sì, perché ha le scosse, ha le scosse del Super Saiyan 2 peraltro. si chiare, diventa più forte. Era un po' anticlimatico fare finire così la saga, nel senso, dopo tutto quello che è successo, Cell muore perché si distrugge da sole. Non può. Vabbè. Ho dato un po' di potenza, quanto c'aveva di danno? Tantissimo, 8 e 40. 6. 6? Ma questa non l'avevi trovata, questa era di scena. Questa l'ho già trovata. Perché è simile a quell'altra. Vediamo. Mettiti solo gli scena. No, vabbè, però così no, ragazzi, guarda, guarda, hanno specchiato. dio padre. Ma chi, dio padre? Ma non è possibile. Chi ha fatto questa cosa? Chiunque abbia avuto questa idea. Sai cosa? Diversifichiamo, invece di metterci un po' lunga, specchiamo, perché così almeno... Straordinario. Così si fa. Andiamo a fare. Lo faceva pure Toriyama, con i suoi disegni, che non possono farlo loro. Certo, certo. Posso rivedere quel macimbu? Voglio capire se... un po' storto. Sì, non questo, l'altro. Vorrei capire se è Kid Buu o un Super Buu. È un machine buu, c'è scritto. Però è storto. Non si capisce molto bene. È un po' strano questo qui, eh? È un po' un misto, è un mistone tra... tra Super Buu. Non si capisce se è Kid Buu o Super Buu. È Kid Buu adulto. Questo è fighissimo. Giusto. Sembrava un Mir di Magic. Guarda che bello, dai. Eh, c'è un bel design, baby. Ma guarda, ecco, parliamo di GT, ragazzi, invece. Secondo me GT è una delle più grandi occasioni perse e mancate di Dragon Ball perché c'hava veramente tante idee fighe ma sfruttate molto, molto male. Io recentemente ho provato a riguardarlo e l'ho trovato lentissimo. Nonostante siano 64 episodi. Sì, sì, anch'io. È vero. Super lento. Una noia incredibile. Sono stermini saghe però allo stesso tempo è pesantissimo. Sono tutte saghe piccole che non hanno la stessa lo stesso pacing che ha il Dragon Ball a cui siamo abituati. Ma sono anche sono anche i tempi di narrazione dell'episodio perché concettualmente rifacciamo il viaggio con Goku che è tonato bambino poteva essere anche un'idea divertente ci poteva funzionare ma invece è sfruttata malissimo. Se non avessero fatto delle cringiate tipo Zuna oppure i fratelli Parabara che sono veramente insopportabili magari qualcosa di buono ci usciva. Cioè il momento più alto è Trunks che si veste la femmina che comunque è un po' Final Fantasy VII ma è soprattutto Dragon Ball uguale all'inizio. Sì 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 direi che GT di buono ha veramente solo le idee. La realizzazione è brutta perché l'hanno pure pubblicizzato come se fosse una specie di tokusatsu. Sembra un tokusatsu nel racconto con cose magiche che accadono così random e in Giappone andavano in giro a fare quegli spettacoli nei centri commerciali fuori con i pupazzoni la gente vestita con i testoni dei personaggi così Dragon Ball GT lo pubblicizzavano. Era tipo un modo nuovo di Giappone fandom giovani e bambini ma questo ha soltanto rovinato ciò che doveva essere il sequel ufficiale di Dragon Ball Z. Però fortunatamente hanno usato poi l'hanno messo fuori Dragon Ball Super che ha salvato il brand. Beh si gli ha fatto fare un sacco di soldi ha risolto il nucleo. No vabbè ha fatto fare un sacco di soldi con un sacco di stronzate però vabbè ma poi un sacco di soldi ma cioè ha incassato così tanto l'anime cioè è stato visto così tanto a me risulta di no però magari mi sbaglio. No tutta l'operazione commerciale gli ha fatto guadagnare miliardi di yen non solo l'anime infatti l'anime è l'unica cosa che non fanno più. Ok ah quindi ma nei gadget nelle carte nelle nuove trasformazioni in cosa? Le statue l'IP di Dragon Ball di Bandai non aveva mai fatto così tanti soldi all'estero ha fatto proprio miliardi di yen con le statuette nuove chiaramente perché con i capelli diversi ne vendi tanti diversi è vero apposto e poi vabbè chiaramente pure il manga vende decentemente cioè ogni volta che esce quella merda di super fa 500.000 copie quindi male non è però naturalmente è orrendo come storie eccetera eccetera vabbè il film di Dragon Ball Super Broly praticamente l'ha pagato da trutto che in chat qualcuno saprà chi è a forza di spacchettare allora faccio una domanda provocatoria a Ocelot ma non è necessario ogni tanto far morire dei brand cioè se non hanno più niente da dire chiaro la risposta di Bandai è no perché dobbiamo farci soldi sopra però se tanto devi buttare dentro roba brutta o comunque discutibile magari era meglio lasciarla andare Dragon Ball il ricordo sarebbe rimasto più intatto o sbaglio giustamente la cosa migliore sarebbe stato dire vabbè Dragon Ball è esistito adesso basta però questo ragionamento non fa fare soldi semplicemente ti dirò Dario col senno di voi ma che ce ne fu nel senso ma ben venga ma che bello no 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 va bene più heroes anche più cose più cose tamarre no quello si le carte di Dragon Ball heroes ci mancherebbe ok ecco e però 795 allora te lo dico subito a attacco e difesa che saranno l'inverso di Goku ultra estinto sicuro ecco c'è anche troppo molto probabile sì un altro topo gogita ecco 570 questo dimostra che i personaggi di super sono molto più forti di quelli di GT vabbè questo è sicuramente un power scaling su cui si può fare affidamento questo anche anche se Super Dragon Ball Heroes ci dice esattamente il contrario Goku Blue e Goku 4 sono pari spesso ma tutti più di heroes o delle lamin card italiane di Dragon Ball scusa io mi fudo dell'ultima cosa che viene raccontata quindi lamin card eh no dove vabbè ma sti cazzi anche dei livelli di forza no power up c'è power level ormai non non significa nulla no c'è una grandissima branca di studiosi che continuano sì 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 ancora sì sì ancora che non riescono a spiegarsi come mai Goku ha fatto la camera contro Krillin in Super Saiyan Blue è tutto apposto ma allora facciamo apriamo il vaso di Pandora parto proprio da Giovanni perché non credo di averlo mai sentito parlare di Dragon Ball Heroes cosa ne pensi sì Dragon Ball Heroes Dragon Ball Super cosa ne pensi di Dragon Ball Super Giovanni di Dragon Ball Super in generale è un po' difficile spiegarlo a parole un discorso parallelo magari se riesci cosa provo per quest'opera è un po' sono dei mixed feelings ovviamente perché ci sono anche gli elementi tutto sommato che non mi sono dispiaciuti partiamo da quelli lì non è che mi ha fatto tutto schifo però per lo più sì diciamo che per lo più mi ha fatto tutto schifo mi ha dispiaciuto quanto sia esageratamente nell'anime un estremo voler fare una sorta di fanservice verso chi ha visto il vecchio cartoon animato riproporre all'infinito le solite cose che erano già state proposte una volta quindi trite e ritrite e poi ci ha aggiunto qualcosa di suo di nuovo che a volte era anche carino a volte meno a me il torneo del potere non mi ha fatto del tutto schifo ci sono delle cose all'interno del torneo del potere che non mi sono dispiaciuto per niente è perché è un po' un picchiaduro ti diverti senza pensare molto alla trama un po' esatto perché lo guardi come se non fosse per forza Dragon Ball in quel momento il torneo del potere lo guardi anche perché stanno a far botte alcune puntate sono animate anche abbastanza bene lo scontro con Kefla te lo ricordo come ti ha animato bene Goku blu contro Kefla c'era Takashi che disegnava mamma mia allora ragazzi mi fermo un attimo perché Caverna aveva sbagliato perché Giren 7.85 7.80 di difesa Goku ultra istinto 7.70 di attacco e 7.80 di difesa quindi è un po' meno di Giren ma c'ha il bonus di 20 invece Giren di 5 quindi può arrivare a 800 mentre Goku ultra istinto 7.90 quindi non può comunque batterlo più forte Giren poterà l'amicizia queste cose qui vabbè infatti non lo batte comunque serve comunque ci sia anche Frieza infatti dicevi Giovanni ti ho interrotto scusami oh sì insomma ci sono degli elementi che non mi sono dispiaciuti però qualcosa che proprio mi è veramente piaciuto di Dragon Ball Super mi è piaciuto veramente tanto non saprei proprio dirtelo ma perché mi ha dato un feeling completamente diverso da quello che era guardare Dragon Ball o legge Dragon Ball ma infatti tante puntate ma non mi riuscivo a riguardarle era stomachevole anche a volte perché proprio non c'era nessun interesse però non è non ha fatto solo cose brutte ecco Dragon Ball Super diciamo così è così anche alcuni personaggi che mi sono garbati insomma tipo Beerus è anche me era simpatico era simpatico ma Beerus in realtà Dragon Ball Z è vero perché all'inizio era certo i primi due film sono brandizzati Z sì è vero non si può dire niente l'ultimo vero personaggio di Dragon Ball Z no l'ultimo vero personaggio di Dragon Ball Z è Golden Freezer e se ci pensi ti viene a male è vero mamma mia che l'erciume quel film potrebbe anche non esistere perché poi nella serie nella serie quando Goku va a riprendere Freezer in quel momento fa la trasformazione in Golden più bella di sempre e a me io mi sono sempre immaginato i suoi servi che gli mettono davanti tipo la raggera di colori gli fanno scegliere quale vuole come quando va a piazzare le piastrelle sai una nostra legge ma tu la dici puoi scegliere il colore che vuole diventare ho scelto l'oro in onore ma grande Freezer mio fratello veramente in onore ai miei grandi nemici sai invece ecco Oselot mi dici se trovi qualche lato positivo in più convincici perché te sei più difendi un po' più strenuamente Dragon Ball Super è come un tuo amico che è diventato tossicodipendente poi gli vuoi ancora bene però sai che stai facendo cose sbagliate tu ricordi il passato che era un tuo amico gli vuoi bene e ogni volta che prova ad uscire hai già credo in te ce la puoi fare ce la puoi fare poi magari ci ricade ma non lo abbandoni comunque continui a dire dai andrà tutto bene e quindi la stessa cosa Dragon Ball Super io l'avevo vista tipo sai che cibo spazzatura tipo quello che vende le patatine fritte ebbe Mc Donald's te le vai a mangiare è lo stesso non volevo citare Mc Donald's l'hai fatto vabbè che vuoi dire nostro fratello guarda io se ti dovessi parlare dei miei sentimenti con Dragon Ball Super ti dirò per tanto tempo non mi è piaciuto perché era proprio strano assurdo ma di nuovo insomma sono d'accordo con Giovanni perché bruttina questa buta il torneo del potere è stato proprio il momento dove ho detto ok stanno raccontando una cosa per me perché le saghe precedenti palesemente sono pepita nuovo pubblico e l'ultima invece è un grande omaggio a quello che è stato Dragon Ball tornano tutti i personaggi classici hanno un certo peso all'interno della storia li trattano decentemente devo dire quindi non hanno almeno non hanno dimenticato delle cose sì c'è Mutant, Enshinan infatti anche Yamcha pure se è un ruolo sempre marginale Krilin 18 17 è stato secondo me veramente molto intelligente da parte loro recuperare tutti questi personaggi proprio bello mamma mia com'è bello sto design mamma lui era il più bello è l'ultima forma però questo sai che io sono un po' combattuto per certi versi prima è l'ultima forma di Freezer che mi calma troppo questa forma bellissima golden ecco il golden freezer tremendo tremendo però la forma base è proprio è mostruosa da imperatore è proprio da imperatore del male mi piace troppo piccolo ma con una potenza incredibile più che altro che nemmeno cammina nemmeno si mescola è così imperatore che si è fuso col suo trono è vero dopo gli eventi di Namek gli hanno smontato la sedia e gliel'hanno attaccata addosso è vero è vero perché c'ha le stesse lastre di prima sono uguali sono uguali ma io mi immagino che è stato lui stesso dire no vorrei visto che come sceglie il colore sceglie pure come essere a me è sempre piaciuta la navicella perché appunto gli dava quest'aura un po' di regalità però allo stesso tempo era snobbissimo cioè lui non si mescolava gli altri non camminava come gli altri o volava addirittura volava con la navicella addirittura lo accompagnava non si rivelava mai a nessuno e poi aveva sempre questa armatura sia abbastanza inutile che ovviamente poi distrugge per iniziare la sua trasformazione veramente veramente figa come cosa comunque è veramente un personaggio assurdo Freezer cioè se pensi pure al movente del film di Dragon Ball Super Broly cioè che lui vuole crescere di altezza ma solo di 5 centimetri così la gente non se ne accorge esatto boh vabbè che poi in realtà è una cosa proprio puramente di Dragon Ball cioè generare Red generare Red fa un casino mondiale perché vuole crescere è proprio una cazzatona di Dragon Ball alla Toriyama tipicamente di Toriyama sì sì a me fa molto ridere questa cosa e a proposito di cazzatone e di personaggi Toriyama qual è il vostro personaggio preferito di Domenico lo so Grande Mago Piccolo Grande Mago Piccolo perché è mostruoso perché è mostruoso perché è Toriyama spiegami un po' perché perché Grande Mago Piccolo perché mi ha traumatizzato quella fase se ci pensi perché è stato un cambio netto tra tutto quello che era gioioso dell'inizio della di Dragon dell'inizio della saga di Dragon Ball poi arriva la vera la vera minaccia la prima vera minaccia e esordisce con facendo morire Krillin ok ah bello posso fare un appunto su questa cosa perché ha dato un assist incredibile Goku quando combatte contro il Grande Mago Piccolo ha un solo braccio disponibile così come Gohan contro Cell eh sì è vero chissà se se lo ricordava boh o se è strano se è stata una casualità vai a sapere con lui non si sa mai a noi ci piace sognare a noi ci piace sognare un solo braccio come anche il Gohan del futuro parallelismo meci in Vegeta che colpisce Trunks come Gohan che colpisce Trunks prima di andare a morire anche ci stiamo sì sì parecchio intrippando su questo eccolo qua il Ghi bello vero di Gohan con i colori che omaggiano i due maestri viola e arancio come sappiamo i colori del suo vero padre beh c'è anche l'arancio di Goku è vero però c'è da dire che io l'ho sempre vista così cioè che Goku è sempre stato un padre snaturato per me certo certo un padre snaturato padre assente padre assente assente è assente si fa i cazzi sui la sua moglie la tratta come non ci fosse un titano eh ovviamente è Goku per salvare la terra ovviamente è certo per salvare la terra non so che c'è nessuno Goku da terrestre è diventato Saiyan Vegeta da Saiyan è diventato terrestre ecco io utilizzo questa Laming Cards per dire per fare un appello che non verrà chiaramente ascoltato però a Bandai perché non ci ha ancora dato una carta di Dragon Ball Heroes dove ci sono Goku e Vegeta che si scontrano ci sono molti scontri nelle carte di Dragon Ball Heroes ma io voglio una carta di Goku e Vegeta che si picchiano Cristo Dio c'è l'arrivo dei Saiyan sulla terra portatissimo c'è l'arrivo dei Saiyan sulla terra ma non c'è quello ma sai la Saiyan Saga in realtà vende pochissimo ma come vende pochissimo si è vero è vero è vero te ne accorgi proprio da quello che accade perché la gente vuole vedere trasformazioni si vuole vedere i Super Saiyan cioè da sette anni a questa parte che gioca a Dokkan praticamente la Saiyan Saga non esiste minchia la più bella saga la più bella saga cazzo si per me Namek l'arrivo di Saiyan e poi Namek non è che proprio un capolavoro sia a livello anche strategico come spostano le sfere molto avvincente però secondo me questa cosa del funziona bene nel manga perché nell'anime si perde tantissimo si vabbè ma nell'anima una vita fa tutto nascondi le sfere prendi le sfere Bulma che parla che rane ma ci sono tutte sette dovrebbero essere e allora sono tutte eccoci comunque si sono molto fighe ora sono solo doppi praticamente eh si ora sono rimaste le doppie da prendere per forza ecco questo comunque di Dragon Ball classico non c'è quasi un cazzo c'è pochissimo sempre perché non vende ce l'hanno messo per mettercelo ma non c'è quasi niente vabbè c'è hanno messo hanno messo solo qualche Goku bambino e basta si Goku bambino Goku scimmione comunque abbiamo finito con Masullo non i personaggi preferiti io ma io lo dico spesso perché è piccolo il mio bellissimo non il grande mago ma piccolo e basta piccolo e basta personaggio cioè mio padre cazzo non so veramente come definirlo più che altro ha avuto uno sviluppo vero secondo me concreto cioè prima è un villain poi si accorge di non essere tanto villain poi si ricongiunge al suo alla sua parte buona poi Nihil su Namek c'è saggio tutto e soprattutto quello sicuramente è un po' più più serioso anche in mezzo a tutto quel gruppetto di stronzi fa la cosa migliore del mondo ovvero in Dragon Ball GT piuttosto che restare nella storia preferisce restare morto è vero Dragon Ball GT fa così cacare che pur i personaggi se ne vanno dalla storia molto commovente mamma mia però anche quella era un'idea della madonna farlo parlare per l'ultima volta con Gohan c'è quel dialogo lì c'è veramente ti gira il cazzo perché anche il design dei draghi malvagi secondo me spaccava cioè ragazzi ora parte un paio poi erano veramente figli alcuni erano molto figli poi sta cosa che usavano delle tecniche ecco un altro Jiren che usavano delle tecniche per mettere in difficoltà gli eroi tipo la palude che ti assorbe l'energia c'era questa roba qua un po' Moro eh sì tipo sì però c'è Moro vabbè io una domanda a voi che ricordo avete della saga di Super C17 mamma allora è più importante nel mio cuore assolutamente l'unica cosa buona di quella saga è sentire Deborah Magnaghi che è doppia C18 piangendo mentre la doppia e ti fa venire le lacrime pure a te quello è l'unico momento ma dici quando muore Green per l'ennesima volta vabbè chi se ne frega che muore Green per l'ennesima volta l'interpretazione dell'attrice è così bella che ti coinvolge è bello sentire la Magnaghi che proprio piange al microfono e tu stai insieme a lei a piangere è bello il gioco fa piangere sempre da più parti del corpo mi sembra ovvio a me fa ridere il fatto che dura tre episodi tre puntate sì sì quello mi fa ridere una saga un ricordo indenebile ecco e quindi ragazzi quale sarà il futuro del brand per riscrivere GT no GT non lo possono sputtanare perché i Super Saiyan 4 vendono un bot eh sì sono belli oggettivamente sono belli è bello il Super Saiyan 4 riscriverlo senza abbandonare il Super Saiyan 4 comunque io stavo riflettendo effettivamente Goku rapisce UB perché poi rapisce UB per allenarlo però lo rapisce c'è ecco ci sarebbe da raccontare tutto il periodo in cui Goku allena UB potrebbero continuare potrebbero continuare così per me non supereranno GT resteranno comunque in quel pezzettino post-get ma prima di GT sono riusciti a fare tre saghe in un lasso di tempo che durava tra la fine di Bu e l'inizio di UB ok ma sì ma sì resteranno là sono certo che non si sposteranno più di tanto se sono furbi ci fanno vedere davvero la crescita dei personaggi ci fanno vedere Ubu e Pan che crescono perché è fondamentale vedere loro due che evolvono fra l'altro sono pure lo stesso personaggio in realtà perché Pan è la generazione successiva l'erede sia di Goku che di Satan quindi vederla che si allena e diventa una campione mondiale diventa un artista marziale quello che volete sarebbe stato comunque molto interessante però c'era questo contentino da dare a Goku di avere il suo scontro perfetto contro Majin Buu allora si doveva farlo Ocelot e poi chiudo io con i personaggi preferiti così chiudiamo questo momento perché ormai ho spacchettato tutto e esco in solo doppioni quindi l'ho riletto recentemente quella porzione mi piace un sacco il Gohan quello quando va a scuola all'inizio della saga di Majin Buu ah ok il momento bello il momento il momento slice of life liceale ok quella parte lì l'ho sempre intesa veramente come se fosse anche un un fumetto americano perché Gohan che diventa proprio supereroe che cerca di celarsi si si cambia il costume nascosto tipo nella serie no ma anche prima ancora di diventare Great Simon il guerriero dorato quante personalità c'ha Gohan in quella fase si e anche Great Simon cambia due volte perché non può usare il casco quindi si deve mettere la fascia è un casino se si cambia design 200 mila volte c'è anche quello col costume del Great Simon senza fascia senza casco Super Saiyan e occhiali da sole quella roba lì sì sì quello ormai era anarchia cioè non gliene fregava più un cazzo ma la saga di Majibu è anarchica arriva Kaioshin oddio oddio bimbi Kaioshin è impossibile incontrastata potenza dopo tre secondi spondano tutto gliene fregava più un cazzo a nessuno c'è anarchia totale esattamente come quando arriva Ubu arriva Ubu c'è pure la testa a Mohawk sta lì a Moicano wow fighissimo basta si deve andare per i mondi poi Domenico Darbula oh ma quella è Darbula è la fine sì bellissimo ecco se è il primo fase questo non ho ancora quanto è bella quella vignetta Domenico Goku che dice come facciamo a far ritornare i nostri amici normali deve morire Darbula ok sì sì no più che altro una faccia di merda sì sì no Karushin che suda fa ma questi chi cazzo sono lo vedi estremamente consapevole del suo potere bello molto bello invece il mio personaggio preferito per chiudere è Mr. Satan perché perché è un perdente perché è uno dei personaggi secondo me più umani del mondo di Dragon Ball in un mondo di mostri dei trasformazioni è quello che cercava di uccidere Majin Buu con la dinamite e il veleno e mi ha fatto sempre una grande tenerezza però è l'unico che è riuscito a sconfiggere Majin Buu con l'umanità e che con la solita umanità riesce a convincere le persone del mondo a donare la propria energia per sconfiggere il male puro quindi la purezza nella possiamo dire nel difetto nella bugia nella menzogna perché lui è diventato quello che è diventato per una menzogna veramente crede crede insomma ha fatto credere a tutti di aver sconfitto Cell nonostante questo è riuscito a redimersi convincendo il popolo a distruggere quella minaccia perché è stato il popolo a uccidere Majin Buu e Satan per la prima volta diventa il capo degli umani il capo del popolo delle persone incoscienti di quello che sta succedendo e quella roba lì mi ha sempre fatto una tenerezza estrema e me l'ha sempre fatto adorare alla follia quindi è un po' è un po' noi no? mister Satan in un certo senso soprattutto quando alla fine tutti alzano le mani al cielo e invocano Satan esatto sì è bello sì sì anche quella è una bella scena chissà se i giapponesi l'hanno capito è stato secondo me sì forse sì conoscendo Toriyama ci ha fatto anche questo scherzo la figlia si chiama Videl che è un anagramma di Devil e Debiru poi ragazzi io vi ringrazio è stato un bel momento da scuola elementare anzi da parchetto nel pomeriggio a aprire carte a parlare di trasformazioni Goku la forza Dragon Ball è stato molto tenero quindi vi ringrazio vi abbraccio ricordo Ocelot su Youtube e ora anche su Twitch Cavana di Platone su Twitch Masullo su Twitch ovviamente Giovanni Volpescu su Twitch ragazzi vi saluto grazie di cuore grazie di cuore